ingrassate e lubrificate con un po' di pazienza andiamo a a questo punto non ci resta che rimuovere le quattro viti qui ovviamente anche qui abbiamo un altro cuscinetto che ugualmente poi andrà ben lubrificato prima di rimontarlo che è quello dell'albero principale del muinello per aprire il corpo del muinello dobbiamo fare altro che rimuovere queste quattro viti come potete vedere le operazioni sono molto semplici è solo una questione di pazienza cosa che sicuramente non manca ad ogni buon carpista che si rispetti ecco qui facciamo attenzione nell'aprire il corpo proprio che ecco andiamo a rimuovere salta protezione in plastica e andremo a rimuovere il rotore principale cuore del nostro un muinello uguale ci sono i due cuscinetti uno da questo lato e uno da quest'altro che andranno ben lubrificati prima di essere rimontati qui non dovremo smontare altro perché abbiamo l'ingranaggio sufficientemente a vista per essere ingrassati lubrificati eventualmente anche puliti se dovessimo trovare qualche piccola incruità cosa abbastanza improbabile perché questi minnelli sono chiusi talmente bene che è difficile che ci si vada a depositare qualsivoglia tipo di sporcizia infatti vengono utilizzate anche in mare appunto sono stati fatti apposta per contrattamenti sia antisalsetine sia per evitare che anche la sabbia ci vada a finire all'interno degli ingranaggi adesso vediamo una panoramica di tutti i pezzi come li ho anche disposti una volta smontati dopo di che andremo ad ingrassare tutto e a rimontare il tutto ecco come potete vedere qui ci sono tutti i pezzi del Big Bad Runner se seguite una disposizione abbastanza ordinata delle varie parti che avete smontato sicuramente non avrete difficoltà a riassembrare il tutto mettendo le viti in gruppo eccetera eccetera questo è quanto ecco il nostro Big Bad Runner completamente smontato andiamo a vedere adesso come lubrificare tutte le varie parti e rimontare il tutto in maniera molto tranquilla allora cominciamo dal corpo principale se dobbiamo pulire qualcosa nell'interno possiamo utilizzare una pezzolina in cotone quello che vogliamo per rimuovere le varie impunità in questo caso lo vedete pulito perché io normalmente faccio la manutenzione dei mulinelli per ingrassare andremo ad utilizzare il pennellino con il grasso in pasta con il pennellino come potete vedere andremo a lubrificare le parti quindi non è necessario utilizzare grossi quantità di grasso anche perché rimarranno poi all'interno del mulinello non è che andiamo a passare un po' ovunque la serie dove poi sarà posizionato il cuscinetto prenderemo il frattore principale e andremo ad ingrassare i cuscinetti allora andiamo a riassemblare il tutto riposizionando con calma non è vero ma 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 A presto. A presto. Passiamo adesso a rimontare il sistema di regolazione del back run. Possiamo utilizzare un po' di olio per andare all'interno del pignone. E poi procediamo nel riposizionare. All'interno del pignone. Quindi non possiamo sbagliare. La molla. E' una manopulina del back run. All'interno del pignone. 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 Riposizioniamo le quattro vite. Io. All'interno del pignone. All'interno del pignone. andiamo a andiamo a riposizionare le levette del byte run e 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 adesso andiamo ugualmente tanto con il nostro pennello e un po' di grasso a ingrassare un po' all'interno della sede del pignone dove andrà poi posizionato il cuscinetto ripidiamo bene anche quest'ultimo questo andiamo adesso a lubrificare e a rimontare il dispositivo dell'antiritorno come potete vedere uguale c'è una boccola con all'interno un cuscinetto che andremo ad ingrassare bene prima di rimontarlo e 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